Onorevole, come sta lavorando sulla scuola il governo Draghi, ma soprattutto vede una linea di continuità o discontinuità con quella tracciata dall'ex ministro Azzolina? Purtroppo devo constatare che i primi mesi sono una continuità a quello che è stato l'operato del precedente ministro. Questo mi addolora molto perché tante erano le aspettative e invece si continua sempre ad operare con una forma scollegata dalla realtà. Sulle chiusure prepasquali e post vacanze si è lavorato bene? Si poteva fare di più? Certamente, è da mesi che continuiamo a dire e ribadire che le chiusure non dovevano esserci, che la scuola doveva sempre essere aperta. Avevamo dato delle soluzioni sia al precedente ministro e continuiamo ancora a ribadirle e dirle anche nel question time di un paio di giorni fa. La stabilizzazione dei precari deve avvenire per titoli e servizi? Questo è un argomento molto complesso e difficile. Troppo si è detto e poco si è fatto. Io non voglio assolutamente fare una politica di prendere e utilizzare il precariato solo a scopi elettorali. Abbiamo una proposta molto seria da parte di tutti i fratelli d'Italia. Non voglio sentire assolutamente l'insulto quando si parla di sanatoria perché non è una sanatoria, però abbiamo due diritti fondamentali che è quello di stabilizzare un precariato che è stato sfruttato da tantissimi anni e comunque contemperare quello che è un altro diritto sacrosanto che è la meritocrazia. Certamente non si fa con i concorsi proposti sia dal precedente ministro Azzolina e purtroppo si continua ancora su questa strada. Da parte del governo c'è sempre e ancora in atto la proposta di una stabilizzazione per titoli e servizi. Io la condivido. In parte cercheremo di fare delle proposte migliorative a questa tesi portata avanti dal sottosegretario Sasso. Si vuole velocizzare i suoi concorsi, ma secondo lei sono il modo migliore per portare in cattedra i migliori? Allora, ribadisco. Il concorso così come è strutturato fino ad oggi no, perché fare delle crocette o rispondere a delle domande multiple, chiusa, risposta chiusa, risposta aperta, non sono assolutamente idonee a misurare la competenza e la professionalità di un docente. Certo è che non dobbiamo sottovalutare e che si possa tutto il percorso di studi, di formazione da parte del docente si possa accantonare. Quindi ecco perché noi di Fratelli d'Italia proponiamo una via intermedia che rivaluti la meritocrazia, ma non fatta con i metodi che sono stati evidenti e fallimentari fino ad oggi. Sul vincolo quinquennale il governo tira dritto. Secondo lei le famiglie sono state dimenticate? Il vincolo quinquennale è una norma assurda, è una norma che lede un diritto fondamentale, che è quello del ricongiungimento alla famiglia. Ho personalmente insieme alla collega Frassinetti presentato diversi emendamenti. Ultimo il DL30 che prevede una sospensione del vincolo quinquennale, così come lo presenterò nel DL sostegno che prevede invece l'eliminazione o la rimodulazione. Tutti parlano che non è giusto il vincolo quinquennale, ma di fatto questo governo invece fa orecchio da mercante. Quali sono le vostre proposte sulla scuola? Fratelli d'Italia propone in questo momento, visto che abbiamo un precariato altissimo, tantissimi docenti sfruttati da tanti anni e non possiamo e non vogliamo noi di Fratelli d'Italia abbandonarli, procedere ad una stabilizzazione che non è una sanatoria, è una stabilizzazione che prende in considerazione anche la meritocrazia. Poi è importante lavorare sopra un'idea che sia invece quella di formare costantemente il docente e possa arrivare a fare quello che ritengo come donna di scuola un mestiere che tra le virgolette non voglio dirlo neanche un mestiere perché il docente è proprio una missione idonea per formare i nostri figli che diventeranno gli uomini del domani. Che cosa bisognava fare e che cosa bisogna fare per favorire il rientro in classe di tutti gli studenti? Quello che abbiamo proposto da diversi mesi, intanto eliminazione delle classi collaio, la ricerca di ulteriori classi o spazi, una proposta insieme al Ministero dei Trasporti, quindi un trasporto sicuro e soprattutto si è perso troppo tempo per cercare di strumenti come il sussidi di sanificazione e areazione dei locali perdendo tempo in queste fantastiche ipotesi di aprire le finestre e quant'altro. E continuare con un piano di vaccini. Sulla maturità 2021 sarà simile a quella del 2020 o sono previsti dei cambiamenti? L'abbiamo sempre proposto, noi non possiamo non volere almeno un compito scritto che sia quello di italiano. Ho sempre ribadito che il tema di italiano non è una prova su quello che è stato fatto nell'ultimo anno, è una prova importante per il ragazzo stesso, è un mettersi in gioco lui stesso e dire io cosa ho fatto in cinque anni, cosa sono riuscito a comprendere, pensare, avere un mio pensiero, un pensiero critico. Ecco, l'esame di italiano è questo, cioè un mettersi in gioco il ragazzo con se stesso. Grazie.